Ci troviamo alla fiera Milano Autoclassica e nello specifico nel retro dello stand Nardi, azienda leader nella costruzione e nel restauro di volanti in pelle ma soprattutto in legno. Un'azienda che esiste dal 1921 quindi accelera verso il secolo di vita. Volanti divenuti famosi in tutto il mondo, acquisiti anche da diversi marchi di automobili mondiali ma sempre all'avanguardia perché continuano a proporre prototipi ad altrettanti marchi automobilistici. Uno dei modelli più richiesti di Nardi è sicuramente la linea Deep Korn, questo volante che stringo tra le mani. Per quale motivo si chiama così? Perché come vedete segue una linea concava. Le tre razze vanno a formare un incavo all'interno del volante. Abbiamo detto che è uno dei più richiesti, sicuramente anche uno dei più venduti ma si è voluto dare a questo volante anche un tocco italiano proprio come l'azienda, come Nardi che punta molto al Made in Italy. Tant'è vero che come vedete all'interno del volante è raffigurata la bandiera italiana grazie a queste cuciture, quindi colore verde, bianco e rosso che rappresentano la nostra penisola. E' uno dei tanti prototipi che ogni giorno vengono sfornati dalle idee di chi lavora in azienda. In questo momento Nardi sta proponendo il volante Deep Korn con le cuciture Made in Italy ai rivenditori di tutto il mondo e sicuramente riscuoterà un grande successo.